E' prevista per domani, venerdì 11 maggio, alle ore 11.30, presso l'Aula Consiliare del Comune di Vallo della Lucania, la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la costituzione della rete territoriale contro la violenza di genere. A moderare l'incontro sarà il dottor Mario Iaruso, coordinatore del piano sociale di zona S8. Introdurranno invece la dottoressa Monia Monzo, responsabile del centro antiviolenza e il volo delle farfalle, e l'avvocato Antonella Palladino, legale del medesimo centro, a firmare la sottoscrizione il sindaco del Comune di Vallo della Lucania Antonio Aloia, il procuratore dottor Antonio Ricci, il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania dottor Gaetano Di Luca e il direttore generale dottor Antonio Giordano. Per l'occasione sarà presente anche l'assessore alla formazione e alle pari opportunità della Regione Campania onorevole Chiara Marciani.